Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Fall Guys, signori miei, secondo episodio che sto registrando subito dopo quello che avete visto mercoledì se non sbaglio E che, raga, continuiamo la nostra avventura, continuiamo la nostra avventura con il nostro ovetto kinder che è troppo simpatico, signori miei, e vediamo di riuscire Altra volta siamo arrivati al secondo livello, ci hanno eliminato proprio per la fine del secondo livello, cerchiamo di migliorarci, signori miei, cerchiamo di migliorarci Piano piano vedremo di fare sempre meglio, ma prima di partire dal video, signori miei, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che Dovete dare a questa serie, vi ricordo di scrivermi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, lo potete fare tramite Paypal, per fare tutto l'ombra dan trovate i link in descrizione Detto questo, partiamo con il video Ok, signori miei, la stanza si sta popolando, siamo 60 su 60, vediamo qual è il livello 8 parade, allora questo non l'ho mai fatto Oddio, finora ho fatto 4 livelli praticamente, quindi dire che questo non l'ho mai fatto è prendersi in giro praticamente Considerando che però non ne ho fatto nemmeno uno Ok, ne ho fatto pochissimi praticamente, ok, che dobbiamo fare? Noi dobbiamo... Ah sì, ok, quello del... va bene, sì, lo conosco, nel senso l'ho visto su YouTube Ce la posso fare, ce la posso fare, signori miei, l'obiettivo è quantomeno arrivare al secondo round Quanto meno arrivare al secondo round Partiamo in terza fila, la cosa non è delle migliori, partiamo in terza fila ma ce la possiamo fare Si qualificano in 45, signori miei, si qualificano in 45 Dobbiamo riuscire a non cadere... Grandi! Allora, la partenza è ottima, signori miei, la partenza è ottima Stiamo calmi, stiamo calmi Vediamo di riuscire a fare le cose per bene Dai, 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 no, 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 perché ci stanno spingendo? Dai, devi girare da questo lato Ma porca di una paletta ambriaca Eramo messi bene, erramo messi bene, porca miseria Dai, 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 vai, vai di slalom, vai di slalom No, dai, 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 infilati, infilati Incugnati, incugnati, incugnati Bello così, incugnati Grande, 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 infilati, infilati, infilati Bello, raga Siamo riusciti a passare molto bene Occhio qui alle palle, occhio alle palle, occhio alle palle Donnaggio di una miseria Dai, 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 che abbiamo il timing giusto Dai, che abbiamo il timing giusto, perfetto Perché io parlo? Perché parlo, porca, di una paletta ambriaca Ma perché parlo? Abbiamo il timing giusto L'ho visto come abbiamo il timing giusto Occhio, 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 grande Passa di lì, bello così No, eliminato, subito così No Dai, ma non è giusto Ma non è giusto Sì, torna al main menu, dai Ma porca miseria, dai, ma non è giusto Essere eliminato così subito Quindi il primo obiettivo fallito praticamente Bene, bene, bello così Ok, partiamo con la seconda partita Io ho solamente un problema Che non so perché c'è un problema con il server Ovvero ogni volta che finisce la partita Mi resette il gioco Io non sto mettendo la parte a nessun punto praticamente Quindi penso che un attimino capire il perché di questa situazione Magari vedrò di farlo nel prossimamente Così vediamo quantomeno di portarci a casa a qualche punto Perché non stiamo facendo minimamente niente Va beh, che sto facendo schifo io a prescindere Su questo non c'è dubbio Però dico a qualche punto dovrei riuscirmelo a portare a casa Come esperienza e cose varie Quindi, boh, vediamo Cosa ci tocca? Ok, door dash Door dash, ok Dobbiamo passare attraverso le porte Questa l'ho visto pure su YouTube Lo conosco come livello Non ci ho mai giocato Ma lo conosco Quindi vediamo di riuscire a farlo bene Porca di una paletta ambriaca Dai così, dai così Concentrati, concentrati Concentrati, concentrati Ce la posso fare, ce la posso fare Ce la posso fare Dobbiamo superare quantomeno il primo round Signorami miei Il primo round lo dobbiamo superare per forza O quantomeno ci dobbiamo Partiamo sempre in terza fila Ok, si guarificano in 42 Dai così Con nostro bellissimo pijamino a righe Con nostro bellissimo pijamino a righe Ok Questa è andata Questa è andata Questa è andata Dai, 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 dai Rompiamo tutte le porte Rompiamo tutte le porte Grande zio Perché mi hanno tirato un pugno Dai, 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 dai Veloce, 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 veloce Scegliamo quello che sta sfasciando tutte le cose Bello così Dai, 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 dai Apritemi un'altra porta E io apro questo Aia Porca miseria Ho beccato la porta chiusa Dai, dai No, no, no Sono in mezzo alla cacciara Sono finito in mezzo alla cacciara Raga Porca miseria Che cos'è Ma che cos'è Sembra quando ci sono gli sconti Al supermercato Praticamente Signori miei Sembra quando ci sono gli sconti Al supermercato Che c'è la fila Per entrare tutti quanti Occhio che stanno arrivando tutti Vediamo se riusciamo In qualche maniera Dai, dai Alzati, alzati 1, 2, dai, dai, dai 4 8, 14, 18 20, 23 Ci siamo qualificati raga Porca miseria Taglie così Mamma mia Sempre proprio quando c'è L'ho detto l'altra volta Quando c'è il Black Friday Che aprono i cancili Tutti entrano Velocemente Praticamente Si crea la coda Che chi è entrato prima Che chi è entrato dopo Non si sa Siamo passati al turno successivo Questa già è tanta roba Signori Siamo arrivati al secondo livello Siamo arrivati al secondo livello Già è tantissima roba Progressi su progressi Vediamo qual è il prossimo livello Raga Vediamo qual è il prossimo livello Vediamo qual è il prossimo livello Dai, 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 dai Qualcosa di fattibile Qualcosa di fattibile In modo tale Raga Dovessi arrivare al terzo livello Sarebbe spettacolare Già però Che siamo al secondo Già Già sono grato Signori mie Già sono grato Allora calma No Di nuovo roll out Ma porca Di una paletta ambriaca No, roll out No Mi è rimasto qua L'altra volta Raga Siamo usciti Gli ultimi praticamente Mancavano solo Per completare il livello E siamo caduti noi Ma porca miseria Allora Siamo calmi Siamo calmi Siamo sul limite Ok, via, 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 via Partiamo così A confusione A confusione A confusione Ok Creiamo confusione Creiamo confusione No, 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 no Qui stiamo già a cascare Via, via, via La lattina Ok, la lattina Che è pericolosa La lattina è pericolosa Calma, calma, calma Calma, relax Calma, relax Passi sull'altra sponda Ok Al limite Ma ce l'abbiamo fatta Al limite Ma ce l'abbiamo fatta Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Ora, ora, ora Ok Siamo in una zona sicura Siamo in una zona sicura Calma Già sono incascati in 6 Signori miei Già sono cascati in 6 Questa cosa è ottima In 9 Buono così Dai, dai, dai Non ci facciamo sconcentrare Non perdiamo la concentrazione Non perdiamo la concentrazione No, 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 no Al limite Al limite Non cascare Bello Molto, molto, molto Al limite Ragazzi Ma abbiamo fatto una gran cosa Stiamo calmi Stiamo calmi Passa veloce Bravo Il mio metto Il mio vetto kinder Che bravo Il mio vetto kinder Sta calmo Sali, sali Siamo fregati Siamo fregati Grande salvataggio al limite Grandissimo salvataggio al limite Non andare da quella parte Siamo ancora in 9 Sono stati eliminati Ancora in 9 11 Ok Ne mancano 5 Ne mancano 5 Non voglio far parte di quei 5 Ok Sono 12 13 Calma, calma Siamo in una posizione molto brutta Calma, 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 calma Ok In 13 Ne mancano 3 Ne mancano 3 Pollo Vuoi cascare? Ne mancano 2 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 Dai, 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 dai Non voglio essere io Quell'alto Questa volta a cascare di nuovo Dai, dai, dai Calma, 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 calma Ne manca 1 Ne manca 1 Ne mancano Non ti fare prendere l'agitazione Non ti fare prendere l'agitazione No Qualificato 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 Stavamo a cascare Raga Stavamo a cascare Qualcuno è cascato prima di me Qualcuno è cascato prima di me Ci ha salvato la vita Signori mie Ci ha salvato la vita Non so chi tu sei Ma mi hai salvato la vita E ti stimo Siamo al terzo round Signori Siamo al terzo round Spettacolo Secondo video Già siamo al terzo round Bella così Bella così Dai, dai Vediamo cosa esce Vediamo cosa esce Qualcosa di fattibile Che cos'è? Fruit cut Aha Questo non me lo ricordo Raga Questo sinceramente Non me lo ricordo Si salvano in tredici Porca miseria La vedo difficile Raga La vedo difficile Ma ce la possiamo fare Vai, vai, vai Corri, corri, corri Corri zio Corri zio Mamma mia Cosa sta arrivando Mamma mia Che sta arrivando Frutta ovunque Va bene che la frutta fa bene Raga Ma così mi sembra un po' esagerato Banane Banane Mele Ovunque Ai, 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 ai Dai, 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 dai Calma, calma, calma Occhio al zuccherino Corri, corri zio Corri zio Occhio alla banana Occhio alla banana No, ci ha preso Occhio alla banana Arancia Mele Va bene che la frutta fa bene Una mele al giorno Toglie l'ovetto kinder di torno Dai, ai, 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 ai Bello Cosa siamo riusciti a salvarci Stiamo salendo raga Siamo sopra No, no Perché ho parlato Perché ho parlato Le susine no Le susine, le fragole no Giro la telecamera Che non vedo niente Dai, 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 zio Dai, zio No, sono già arrivati in tre In dieci raga Niente, siamo morti Ma porca di una paletta Ma porca miseria Eppure ci ho sperato Ci avevo sperato raga Mannaggia di una miseria Ci avevo sperato Ci avevo sperato Ci hanno eliminato alla finale Va bene ragazzoli Detto questo Spero che questo secondo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Il sostegno I like e commenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao